Salve a tutti, benvenuti in Herbalife. Sono Michael Johnson, presidente e CEO ed è un piacere avervi qui con noi oggi. Herbalife è un'azienda nutrizionale internazionale che vende i suoi prodotti esclusivamente attraverso una rete di persone come voi. Siamo presenti in più di 90 paesi in tutto il mondo. Offrendo supporto nutrizionale a tutto il corpo, i nostri eccezionali prodotti hanno aiutato milioni di clienti. In questo nostro incontro imparerete a conoscere meglio i prodotti e l'opportunità commerciale Herbalife. Tutto quello che facciamo in Herbalife mira a supportare una vita sana e attiva. Da più di 20 anni partecipo a gare di triatlon e ciclismo e uso i nostri prodotti tutti i giorni. Mi piacciono perché offrono buona nutrizione e supportano forma fisica e performance e penso che possono aiutare anche voi. È molto importante trovare un assortimento di prodotti adatto. Vi incoraggiamo a lavorare con il vostro sponsor, la persona che vi ha invitato qui, per scegliere il vostro assortimento. Oggi conoscerete anche persone che hanno deciso di provare l'opportunità commerciale Herbalife. I guadagni variano da persona a persona. C'è chi decide di lavorare part-time e chi invece sceglie di svolgere l'attività Herbalife a tempo pieno. Come in qualsiasi lavoro, il successo richiede costanza, impegno e anche abilità. Per maggiori informazioni potete consultare l'informativa sulle medie di performance economica. Indica i compensi che Herbalife assegna ai suoi distributori nel mondo. Ci pregiamo inoltre di svolgere attività benefiche attraverso la nostra fondazione. Con il generoso aiuto di tutta la famiglia Herbalife, la Herbalife Family Foundation sostiene con fondi e attività di volontariato più di 90 organizzazioni per l'infanzia in tutto il mondo. Ci piace sapere che ci sono persone che stanno arricchendo la propria vita grazie all'opportunità Herbalife. La persona che vi ha invitato a questa presentazione desidera illustrarvi l'esperienza che potreste vivere con i nostri prodotti e la nostra opportunità. Ci sono alcuni tratti di fondo che accomunano coloro che hanno successo con l'attività Herbalife. Il duro lavoro, la voglia di imparare e il costante miglioramento nelle tecniche apprese durante lo svolgimento dell'attività Herbalife. Dopo la presentazione avrete l'opportunità di parlare dei prodotti e dell'opportunità con la persona che vi ha invitato qui. Se decidete di intraprendere l'attività Herbalife potete frequentare i nostri corsi di formazione. Metodi di lavoro di successo vengono utilizzati per creare e mantenere un portafoglio clienti e un gruppo di lavoro. Usate i metodi che sono più adatti a voi e che meglio rispondono ai vostri obiettivi economici. Se decidete di unirvi a noi non dovete investire grandi somme per svolgere l'attività. È importante che acquistiate una quantità di prodotti commisurata alle vostre esigenze. Con Herbalife potete farcela perché non ci sono limiti né requisiti professionali di classe sociale, istruzione o fisici. Il vostro successo si basa su di voi, sul vostro lavoro e impegno, sulle vostre capacità personali e ovviamente l'integrità. Herbalife è più di un semplice lavoro. Siamo impegnati a portare la buona nutrizione nel mondo e vorremmo che vi uniste a noi. È il momento giusto. Avete un'opportunità. Fate la vostra. Grazie e benvenuti nella famiglia Herbalife e nell'opportunità Herbalife. Grazie.